Adesso andiamo a vedere una pagina dove va solo il traffico. Vieni a vedere qua una cosa, Martini, vieni qua, guardate. Adesso ci agganciamo, ci agganciamo qua. Tre chilometri spinge, poi? E dopo va. Però sono 24.000 attività. Ma se mamma preteggia? Eh, ragazza, facciamo una magia. Adesso si attacca a quel motore là, quel motore che fa 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 fa. Ma perché? Si è molto interessante. Eh, sì? Che cosa Father? Si è accattato da valutare. cybernibati sono poche persone rarissime perché tutti sono molti e rilassanti anche cioè cosa sta facendo? Allora salove, salove e attenzione Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.